Boston X di Tecnocontrol è l'analizzatore di combustione frutto di 56 anni di esperienza nel mondo della combustione. È conforme alle norme sull'analisi di combustione in conformità con le norme UNI 10389.1 e 10389.2. Ha un sensore di pressione sensibilissimo e infatti anche conforme alla norma UNI 10845 e UNI 10683. Ventilazione con prova dei 4 pascal. È anche disponibile una comoda app gratuita compatibile sia per sistemi IOS sia per sistemi Android. Con questo è possibile visualizzare i valori di misura in tempo reale, visualizzare l'archivio dello strumento, compilare automaticamente i moduli da legare alla documentazione di caldaia. Come è fatto lo strumento? I due modelli di Boston X possono essere a due sensori, ossigeno e ossido di carbonio, CO, oppure tre sensori, ossigeno, ossido di carbonio e ossido di azoto, NO. E tutti i sensori sono di garanzia di ben quattro anni. I sensori possono essere sostituiti da voi senza mandare lo strumento in assistenza. Unico pulsante di accensione e spegnimento da tenere premuto fino al BIP. Display touch, screen colori e scarico dei fumi aspirati. Innesto per sondaria comburente esterna e sondaria comburente interna in alternativa. Innesto connettore temperatura fumi che provvede anche alla misura della pressione e depressione nel cammino. Innesto per la misura pressione e depressione. USB di tipo C. Memoria flash interna. Lo strumento è provvisto di segnale infrarosso e di connessione bluetooth ed è quindi compatibile sia con stampante infrarosso sia con stampante bluetooth. Stampante bluetooth in dotazione di serie. La sonda fumi in dotazione di serie ha uno speciale dispositivo di condensazione dell'umidità presente nei fumi. È un'efficace raccolta condensa. L'essicazione perfetta dei fumi è garantita. Un menu di aiuto vi dice la scadenza dei sensori. Boston X di Tecnocontrol comprende lo strumento, la valigia stagna, sonde fumi e aria, stampante bluetooth, alimentatore per strumento stampante, cavo usb tipo C, tubi prova a pressione e rapporto di taratura. Tutto quello che ti serve per la perfetta analisi di combustione con precisione e velocità. Boston X vi aiuta. È semplicissimo. Dopo l'accensione è sufficiente scegliere il combustibile, premere freccia. Lo strumento esegue l'analisi automaticamente della combustione in pochi minuti. Alla fine premere stampante. Con Boston X di Tecnocontrol lavori meglio.